Un'ora di allegria e musica a domicilio per gli anziani della città che non possono uscire da casa e l'iniziativa a titolo totalmente gratuito partita ieri. L'associazione Hauser ha portato canzoni, poesia e teatro a casa di un'anziana che vive alla periferia della città a ridosso delle campagne quasi al confine comparite. Grazie, molto gentile, pochi compagni ci voleva, troppo sola. Mi fa molto piacere. Perché stiamo in campagna? Siete un po' in periferia, un po' lontani dal città. Tieni malaria fresca, i passarelli che cantano. La svegliai e gli uccelli che cantano. Vado a riporto, campagna, campagna. Gli interessati possono rivolgersi al centro che si trova al piazzale Proloco al Corso Campano. Abbiamo pensato di portare anche il benessere, un po' di allegria, un po' del nostro tempo libero a casa di persone che autosufficiente purtroppo non lo sono. Ho scelto la signora come inizio per una programmazione che possa essere in futuro regalando un'ora di canzoni sia napoletane che italiane, quelle napoletane nostre tradizionali. così gli diamo un po' di compagnia e dedichiamo quest'ora a queste persone. Tante le iniziative dello spazio anziani, tutte gratuite grazie alla convenzione col comune di Giuliano con il progetto Attivamente. Ricordi che lo spazio anziani si occupa oltre che animazione musicale e teatrale e anche del benessere degli anziani con attività motore, facendo attività di cosiddetta ginnastica dolce, quella che prevede dei movimenti molto semplici che sono congruenti e in linea con quella che è l'età di un non più giovane. Siamo in programma di presentare una rassegna praticamente delle principali attività che facciamo nello spazio anziani che si svolgerà il 4 gennaio 2019 nell'auditorium della biblioteca comunale a Giuliano. Chiaramente l'ingresso è libero come libero all'iscrizione. Noi abbiamo questa convenzione col comune di Giuliano che è l'affidataria di un progetto che non a casa si chiama Attivamente e che prevede tra le sue attività non solo animazione musicale e teatrale ma prevede anche musicoterapia con la dottoressa Stefania Fusco, prevede anche attività di ballo con la dottoressa Vallefuoco, attività e incontri con la psicologa, la dottoressa Tuccillo, nonché anche un'attività di sperimentazione al momento, speriamo di incrementare sempre di più di come si evolvano le applicazioni sui social network e anche sui smartphone.